partiti e in vantaggio Oli Sensazione davanti a Spider Place, Ebano Puro Seniga Captain Mattia ed Angel Force dopo 300 metri di corsa conduce Oli Sensazione davanti a Seniga Ebano Puro Spider Place Captain Mattia ed Angel Force all'inizio della curva prosegue in vantaggio Oli Sensazione davanti a Seniga Ebano Puro Captain Mattia Spider Place ed Angel Force poco prima dell'ingresso addirittura è sempre in vantaggio Oli Sensazione davanti a Seniga, Ebano Puro e Captain Mattia i cavalli entrano addirittura Oli Sensazione e Seniga conducono davanti a Ebano Puro Captain Mattia per linee interne Spider Place ed Angel Force e in leggero vantaggio lungo la corda Captain Mattia davanti a Spider Place Ebano Puro Angel Force e Oli Sensazione e in vantaggio Captain Mattia davanti a Spider Place ed Ebano Puro resiste Captain Mattia davanti a Spider Place e Angel Force e in leggero vantaggio con il ito Grazie a tutti